Musica Abruzzo con indice RT tra i più bassi d'Italia scende il numero di vittime, oggi solo due decessi, la provincia di Chieti la più colpita, Giulia Nova giornata record di vaccini con 1200 dosi. Recovery found all'Abruzzo, 3 miliardi di euro, l'annuncio del senatore Luciano D'Alfonso durante un incontro a Roseto, intanto trema la costa adriatica per una scossa 5.6. La Team diventa una società in house del comune di Terra, a muovia libera l'acquisto delle quote private dal consiglio comunale. Il diavolo prova a ripartire all'ora di pranzo, domani a Vibo Valencia dopo 2K.O, Mister Faci, playoff non scontati, sarebbe un gran risultato. Un cordiale saluto, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dedicata all'Abruzzo. Iniziamo dal numero dei contagi, una curva piuttosto stabile, quella in Abruzzo che è la regione che ha tra gli indici RT più bassi d'Italia, ma nonostante ciò ancora resta in zona arancione con 348 positivi. Fortunatamente ai minimi storici il numero delle vittime, che oggi sono soltanto due, ed è Chieti la provincia più colpita con il dato riferito alla provincia di Teramo che anche torna a salire. Stabili invece i ricoveri ospedalieri. Ma ci fa il punto Alfredo Giovannozzi. È un Abruzzo ridisegnato parzialmente dal punto di vista cromatico, quello che si prepara a vivere la settimana santa e prima del rosso per tutti nei giorni di sabato 3, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta. Intanto l'indice R contide la regione tra i più bassi d'Italia, con quello 0.87 che sarebbe da zona gialla, ma ormai è noto che il giallo in Italia lo riverremo solo nel mese di maggio, se tutto andrà bene. E così per il momento si continua con l'arancione. Intanto sono tanti comuni importanti abruzzesi che sono usciti dalle restrizioni, e cioè dalla zona rossa. Su tutti Montesilvano e Città Sant'Angelo nel Pescarese, Tortoreto e Martinsicuro nel Teramano, mentre ne entrano a far parte altri, ma sono tutti più piccoli, eccezione fatta per Atessa in provincia di Chieti. Intanto anche per oggi la linea del contagio resta stabile, con i 348 nuovi positivi. Il tutto su un totale di 4.750 tamponi molecolari esaminati, che danno una percentuale del 7,3%. Comprendendo anche i test antigenici, il totale delle prove effettuate sale a 6.452, e la percentuale complessiva è pari al 5,4%, due punti percentuali in meno. Dunque la differenza non è enorme. Oggi la provincia di Chieti, quella con il maggior numero di nuovi casi di positività, con 109. L'Aquila, negli ultimi giorni particolarmente colpita, oggi ne conta 95, mentre spicca il dato della provincia di Teramo con 98 nuovi casi, a segnare una risalita del contagio che va tenuta sotto controllo. Basso anche oggi il dato di Pescara, con 39 nuovi contagiati. Altra buona notizia di giornata è quella che riguarda i decessi, che oggi sono solo due. Uno dei dati più bassi degli ultimi tempi. Il totale di coloro che hanno perso la vita a causa del virus sale così a quota 2.074. Tornano a salire i ricoveri nelle terapie non intensive degli ospedali regionali. Oggi i ricoverati sono ben otto in più rispetto a ieri, e il totale dei letti occupati nelle aree mediche ammonta a 623. Fortunatamente scende il dato riferito alle terapie intensive, dove sono due i letti che si sono liberati e il totale dei ricoveri ammonta 83. Scende ancora il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Sono infatti 43 meno di ieri, vale a dire 9.707. Anche se di poco, anche oggi il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi contagiati. Oggi sono 383 coloro che hanno risolto il problema con il virus, e questo fa sì che il numero di coloro che sono attualmente positivi nella regione sia più basso di ieri di 37 unità, e cioè 10.413. Come avete sentito dai nostri titoli, una forte scossa di terremoto è stata avvertita in modo netto sulla costa abruzzese, anche nelle Marche nel primo pomeriggio. Il sisma è avvenuto a largo del mare Adriatico Centrale, un magnitudo 5.6 registrata dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 14.47 ad una profondità di 5 chilometri e con un epicentro a circa 80-90 chilometri dalle coste della Puglia Garganica e dalle isole Tremiti e da una trentina invece di chilometri dalla Croazia. In quest'area la sismicità è molto frequente e il 2 gennaio 78 avvenne un sisma di magnitudo 5. Comunque nessuna segnalazione di danni è arrivata ai vigili del fuoco che hanno segnalato l'evento sismico anche sulle proprie pagine social. Ora continuiamo a parlare invece dei contagi. Dicevamo che la provincia più colpita è quella dell'Aquila. Allora in questo servizio ci fa il punto la nostra Chiara Bonatti che ci parla anche dei tamponi che partono per le associazioni. In questi giorni la crescita maggiore per l'andamento dei contagi lo registra l'Aquila. Nel frattempo è in corso una campagna di screening per cercare di tenere sotto controllo le situazioni che presentano criticità. La situazione destra un po' di preoccupazione perché effettivamente c'è stata una risalita dei contagi sia in provincia e sia nella città dell'Aquila. Ci sono diversi comuni che sono in zona rossa. Stiamo cercando di capire da dove derivi il contagio. Ci confrontiamo quotidianamente con il Dipartimento di Prevenzione della ASL. Abbiamo avviato una campagna di screening su una frazione della città dell'Aquila dove era localizzato un focolaio. Oggi partiremo anche con lo screening su scout e su associazioni studentesche. Stiamo cercando di fare in maniera tale da circoscrivere il virus in maniera tale da non provarci così come è accaduto nel corso della seconda ondata con un'impennata improvvisa della curva epidemiologica e poi dover rincorrere l'ospedalizzazione e anche purtroppo aver registrato un numero di decessi elevato. Posta sotto osservazione è la situazione dell'Istituto delle Suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari dove sarebbero risultate positive alcune delle religiose presenti. Naturalmente tutta la struttura è stata messa in quarantena. La ASL ha disposto i tamponi molecolari per tutti gli ospiti siano esse le suore che gestiscono sia anche i minori che sono lì presenti. Contestualmente io ho emanato un'ordinanza di chiusura dell'asilo annesso alla struttura e con i tamponi molecolari. Invece per il resto della popolazione stiamo procedendo con i test rapidi. Siamo in attesa di capire effettivamente quanti saranno i positivi e se la situazione in generale nella città è sotto controllo perché si tratta di positivi già tracciati e quindi già in quarantena o se si tratta di situazioni che potrebbero sfuggire al controllo delle istituzioni sanitarie e dell'amministrazione comunale. Giornata record di vaccini a Giulianova in 1.200 over 80 hanno ricevuto la seconda dose del vaccino. Una macchina organizzativa al limite della perfezione per garantire in un solo giorno il richiamo del vaccino per i 1.200 over 80 residenti a Giulianova infila fuori dal centro polifunzionale i pioppi dell'annunziata rispettando il proprio turno in attesa della seconda dose somministrata una dose ogni tre minuti sotto la supervisione del dottor Paolo Calafiore responsabile della task force vaccinale dell'ASL di Teramo. Devo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale soprattutto l'Idi Albani che si è spesa molto per questa organizzazione la Croce Rossa di Giulianova e la protezione civile di Giulianova. Noi da parte nostra abbiamo messo in campo tutto il team vaccinale di Giulianova e riusciremo a smaltire in 10 ore 1.200 nonnini che devono fare la dose di richiamo. E' importante in queste situazioni l'organizzazione capillare perché se i tempi vengono rispettati e chiaramente tutta la macchina funziona non si crea fila e i pazienti vengono smaltiti regolarmente. Create due aree differenziate per non ingolfare l'ingresso della struttura una per i nonnini in possesso di un numero pari l'altro ingresso per i dispari. All'interno della sala ci sono due sanitari che regolarizzano e soprattutto organizzano il flusso all'interno della sala vaccinale e poi abbiamo i volontari della Croce Rossa che controllano il tempo dopo un quarto d'ora se tutto è a posto li accompagnano fuori. Non ci sono stati problemi per i nonnini che hanno avuto la dose? Per ora no, stanno tutti bene, sono tutti contenti. Questo io l'ho chiamato una prova perché se con questa organizzazione noi riusciamo a gestire 1200 persone nel tempo di 10 ore può essere anche da stimolo per tutti i team vaccinali ad organizzare in questa maniera le sedute vaccinali per poter mantenere poi queste tempistiche e questo numero di persone da vaccinare. 3 miliardi di euro verranno destinati all'Abruzzo attraverso il Recovery Fund. L'annuncio è stato dato dal senatore Luciano D'Alfonso questa mattina a Roseto dove inizieranno i lavori del Pontile che lui stesso aveva finanziato con il Masterplan. Lino Nazionale La crisi politica in regione con Umberto D'Annuntis approdato in Fratelli d'Italia lasciando quindi Forza Italia e la richiesta del responsabile regionale della Lega Luigi Deramo di un rimpasto dell'esecutivo di Marco Marsiglio non sembrano scalfire il senatore Luciano D'Alfonso. Possiamo chiederle, senatore, della questione che riguarda la regione attualmente. Deramo ha chiesto il rimpasto dopo la scelta di D'Annuntis. Questa forse è l'unica domanda che non mi vede competente. Presente a Roseto per l'inizio dei lavori del Pontile con un finanziamento di un milione di euro concesso attraverso il Masterplan che lo stesso D'Alfonso aveva pianificato quando era governatore ha preferito porre l'attenzione invece sui circa 3 miliardi di euro che arriveranno con i recovery fund per il rilancio dopo i danni della pandemia. Servono idee e progetti dico al comune di Roseto attivate le prime forme di descrittività progettuale gli studi di fattibilità e mettete all'ordine del giorno tutti i problemi che avete perché l'unica cosa che non mancherà all'Italia nei prossimi sette anni sono le risorse finanziarie. Quello che però non può accadere è che davanti all'abbondanza di risorse finanziarie non ci siano idee di priorità non ci siano elaborati progettuali. Quando io vedo che le amministrazioni sopra il livello del comune cominciano a balbettare o a litigare o a litigare secondo me si delinea l'immoralità. Questa è una stagione nella quale Roseto la provincia di Teramo l'Abruzzo devono correre per fare in modo che le risorse quelle del piano nazionale della ripartenza del recovery fund possano subito attivarsi sotto forma di cantieri altrimenti saranno i tedeschi gli spagnoli a prendersi le risorse che sono nostre all'Abruzzo 3 miliardi di euro arriveranno. A Roseto si voterà in autunno per il rinnovo del Consiglio Comunale per la scelta del sindaco Sabatino Di Girolamo si ripresenterà con il PD la presenza di D'Alfonso può essere considerata una consacrazione per la ricandidatura il senatore Stato Sibillino. Io la cosa che auguro a Roseto è di non organizzare la dispettosità dentro di sé a volte ci sono diciamo filiere di classi dirigenti del passato che investano tutto il proprio tempo per organizzare la dispettosità io mi auguro che Roseto che ha un ruolo traino nella provincia di Teramo in Abruzzo non debba diciamo essere segnata da quel gioco tutto retroverso che è la dispettosità. Un'interpretazione può essere data Italia Viva con Tommaso Ginobile non faccia dispetti ma che si sieda attorno a un tavolo per un dialogo comune e una convergenza probabilmente sullo stesso di Girolamo. Continuiamo con la politica il consigliere regionale Sandro Mariani del gruppo Abruzzo in Comune definisce Circenze la situazione nella maggioranza di centrodestra che governa e si offre come consulente politico pur di evitare agli abruzzesi un simile spettacolo. Giancarlo Falconi Mariani ha saputo che il sottosegretario d'annunzi si è passato in Fratelli d'Italia? Cosa non mi stupisce affatto era ormai cosa certa peccato che molti dei miei colleghi di maggioranza quando io ho più volte preannunciato questo passaggio mi hanno deriso e smentito e oggi purtroppo i fatti mi danno ragione. Ora metaforicamente parlando ovviamente l'onorevole Pagano coordinatore di Forza Italia in Regione Abruzzo l'onorevole eravamo coordinatore della Lega di Salvini sempre in Regione Abruzzo saliranno non al colle ma sul collo di Marsiglio chiedendo l'azzeramento della giunta. Sì ma infatti già abbiamo 25 mesi di questa maggioranza dove praticamente si è visto soltanto una lotta tribale tra bande tese soltanto ad occupare Poltrone abbiamo visto più volte che si sono fatti l'opposizione da soli che è un unicum tutto di questa maggioranza quindi assisteremo ad altri giorni altre settimane dove praticamente le lotte intestine prenderanno sempre di più sopravvento nel frattempo c'è un Abruzzo in pandemia c'è un Abruzzo che ha una paralisi economica sociale sanitaria con una maggioranza incapace di tenere e di fare consigli regionali e commissioni con punti all'ordine del giorno consistenti voglio soltanto farvi presente che negli ultimi mesi i consigli regionali e le commissioni sono praticamente vuote sono prive di punti all'ordine del giorno diamo la soluzione anticipiamo i tempi diamo l'assessorato ad annunzi se facciamo entrare in surro Gabriele Dastolfi ex sindaco di Atri io per il bene dell'Abruzzo in questo caso come ho detto non perché sono un genio ma perché il livello purtroppo è quello che vediamo ho offerto più volte una consulenza politica gratuita a questa maggioranza perché vedendo quello che vedo naturalmente è molto semplice consigliarli e cercare di guidarli cioè purtroppo al di là delle battute siamo davanti ad una maggioranza che sta esprimendo un livello molto 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 basso da ieri la Team società che si occupa di vari servizi tra i quali la raccolta dei rifiuti a una società in house del comune di Teramo lo ha votato il consiglio comunale a maggioranza sentiamo Alfredo Giovannozzi sindaco partiamo da un presupposto andava fatto assolutamente sì andava fatto ma abbiamo voluto farlo abbiamo voluto non soltanto chiudere una vicenda che si stava protraendo ormai da tanti anni in una situazione di irregolarità di instabilità ma abbiamo soprattutto voluto dare un segnale di continuità e questo è stato l'obiettivo che ci siamo posti fin dal mandato alla società Teramo Ambiente e dare soprattutto una prospettiva trasformare la società in una società in house non è soltanto un'operazione societaria ma un'operazione che vale tanto perché al di là del costo che è assolutamente sostenibile quasi a costo zero l'operazione intesa come bilancio consolidato comune di Teramo Team dà una prospettiva alla società in un contesto normativo soprattutto quello relativo all'Agir che ci consente veramente di essere un punto di riferimento nel settore della gestione dei rifiuti oltre che dare un'occasione anche alla città di Teramo la comunità della Mala di avere una società in house che possa gestire dei servizi appunto a servizio dei cittadini parliamo anche della presa di posizione dell'opposizione è stata una presa di posizione responsabile? il dato politico della giornata di ieri è chiaro il risultato di questa operazione dal punto di vista politico è straordinario perché ha avuto l'ok anche di parte dell'opposizione responsabile che ha compreso quanto questa operazione fosse non solo un'operazione che andava fatta ma un'operazione che si è scelto di fare per dare una prospettiva alla società e poi insomma chi è contrario all'in house responsabilmente o comunque sulla base delle sue considerazioni ha scelto di votare contro nell'opposizione poi c'è quella categoria che può sostenere tutto il contrario di tutto che ha sostenuto tutto il contrario di tutto che è tutto il contrario di tutto e comunque voti che voti a favore che voti contro esce sempre sconfitta possiamo ridare al consiglio comunale una sua dignità evitando negli interventi delle bestemmie oppure evitando che ci siano commenti di sottofondo anche volgari deve essere assolutamente garantita l'educazione istituzionale all'interno del consiglio comunale come sede istituzionale come in tutte le altre sedi istituzionali avete sentito spaccata sul voto di opposizione sulla vicenda Team replica al sindaco anche il coordinatore comunale a Teramo di Italia Viva Alfonso di Sabatino Martina sentiamolo al microfono di Giancarlo Falconi possiamo dire che i numeri dati dal sindaco d'Alberto 400 mila euro il costo finale della Teramo ambiente sono numeri falsi il sindaco mente sapendo di mentire abbiamo testimoniato con i fatti con i documenti che la cessione avverrà a un valore di 2 milioni e 400 mila euro 1 milione e 4 è la proposta irrevocabile ricevuta dalla Comir che verrà ovviamente pagata con fondi pubblici appostati a bilancio sul comune di Teramo e un altro milione di euro avverrà con la distribuzione di utili della Team al socio privato che comporterà ovviamente anche la ulteriore distribuzione di 1 milione 042 agli altri due soci che sono nel comune di Teramo e il mote al termine della precedente intervista abbiamo parlato anche del presagio della Corte dei Conti il consigliere Massimo Speca ha parlato da parte vostra di minacce non si può buttare in cagnara una vicenda di questa delicatezza questa è una vicenda strategica per 158 famiglie è una vicenda decisiva per le sorti economiche finanziarie e patrimoniali della Team questa operazione è stata costruita così in fretta una fretta a volte difficile da comprendere per chi ha un po' di buonsenso e ragionevolezza la stessa fretta che ha portato ad approvare una delibera di consiglio sulla base dell'assenza di uno dei parametri decisivi sui quali poter formare il consenso informato dei consiglieri questo deve essere chiaro per non considerare il fatto che non c'è in delibera alcuna valutazione puntuale sulla convenienza economica e sull'analisi di sensitività rispetto all'ipotesi di gestoria formulata dal mote che è arrivata il 15 a mattina e che anche questa non è stata oggetto di alcuna valutazione prima della proposta di delibera consigliare ora mi dica lei e mi dicano i cittadini ben pensanti che se ragionevolmente una delibera di questa portata non avesse necessitato per esempio di attendere l'approvazione definitiva del bilancio Team Siamo arrivati al calcio alla Serie C domani alle 12.30 il Teramo gioca sul campo della Vibonese per cercare di riscattare le ultime due sconfitte consecutive sentiamo mister Paci abbiamo fatto una buona settimana fisicamente stiamo bene mentalmente pure veniamo da una sconfitta però quello capita ci sta e stiamo bene abbiamo voglia di giocare domani noi abbiamo le nostre motivazioni perché vogliamo vogliamo far bene in questo finale di stagione vogliamo vincere domani e credo che loro saranno comunque affamati come noi hanno fatto tanti pareggi significa che è una squadra che ha grande equilibrio è una squadra che sa difendere noi nella stessa maniera abbiamo una fase difensiva buona rispetto all'attacco e quindi sì i valori riportano alla fine ma ogni gara ha la sua storia come dice Allegri alle tre iniziano la partita alle tre e un quarto ce n'è un'altra alle tre e quaranta un'altra partita insomma ogni partita va giocata a prescindere da questi score non farei il calcolo sul Foggia su altri pretendenti ci sono ancora sei partite importanti adesso per noi centrare l'obiettivo dei pre-off sarebbe un risultato incredibile perché non era scontato all'inizio non è scontato adesso perché dovremmo essere molto bravi per arrivare nei pre-off anche se abbiamo diversi punti di vantaggio ma rimane sempre un'incognita per me anche se ci credo molto ma rimane sempre comunque un obiettivo da raggiungere da perseguire con tutta la squadra era questa l'ultima notizia non ci sono aggiornamenti grazie per averci seguito dopo la pubblicità tutte le notizie dalle Marche grazie a tutti